In un momento in cui non immaginavamo minimamente di ricominciare nulla, mi è arrivata una telefonata dal Napoli Teatro Festival, che sapevamo già di fare prima del lockdown. Diciamo che a gennaio ci avevano detto che avevano preso lo spettacolo per farlo partecipare appunto a questa rassegna molto importante, a cui devo dire, insomma, tenevo molto, perché c'ero già stata l'anno precedente, l'anno scorso, però con uno spettacolo più corale. E invece quest'anno con questo Fullumena, un'altra storia in omaggio alla figura di Filomena Marturano, che è un testo che è fortemente voluto e che Salvatore Runga ancora una volta ha scritto per me, di cui sono ovviamente molto grata a Salvatore. Allora, questo spettacolo è un omaggio alla figura di Filomena Marturano, è una sorta, non possiamo parlare di riscrittura, perché è un'altra trama possibile. Quindi abbiamo una Lumena in scena dove attraverso, diciamo, un escamotage, che poi è una sorta di agonia che c'è naturalmente nell'originale di Edward che muove, diciamo, le file di tutta la trama, abbiamo una Lumena che rivisita in qualche modo il proprio passato e quindi, diciamo, ci allontaniamo molto dalla trama originale, ma diventa anche un modo per far emergere alcuni aspetti, diciamo, del capolavoro di Eduardo e soprattutto il carattere profondamente versivo di quest'opera che forse molto spesso l'ha messa in scena stessa ha finito per, in qualche modo, edulcorare. Ecco, è un napoletano molto forte, molto tosto, molto ardente che in molti momenti diventa anche molto poetico ed è uno spettacolo dove naturalmente a Luciana abbiamo chiesto tutta la più vasta gamma dei registri da quello comico, grottesco, patetico, drammatico quindi siamo molto, molto felici di poter andare in scena. Questo è uno spettacolo che in qualche modo rispetto alla tradizione si pone, rispetto alla tradizione riannodando dei fili e spezzandone degli altri e quindi, diciamo, la possibilità, ecco, di confrontarsi con questa tradizione di poterla rinnovare in un contesto importante come quello del Napoli Teatro Festival devo dire che è una bella cosa, è una bella esperienza. Vorrei invitarvi tutti quanti il 12 luglio abbiamo due repliche, una alle 21 e una alle 23 quella delle 23 ha ancora dei posti e poi, diciamo, per chi non riuscisse ad arrivare visto che sono poi pochi posti e devo dire, meno male, sono andati a ruba subito per chi non potesse possiamo sempre augurarci che qualche amministratore isolano magari, come dire, ha voglia di acquistare questo spettacolo e così lo facciamo pure a Ischia perché sempre può succedere.